La Marina Militare, rappresentata dall'amiraglio Gioia Passione, direttore del Centro di Supporto della Sperimentazione Navale e in concomitanza con gli eventi culturali correlati al 31esimo trofeo a Mari Perman, qui presente e a cui cedo la parola per un indirizzo di saluto. Grazie donandante, intanto vi ricordo il saluto del comandante di Marina Nord, l'amiraglio Lazio, che abbiamo dovuto un pochino cercare di dividerci perché qui è partita una catena di eventi che controlliamo difficilmente anche grazie a un certo numero di collaboratori che definire poattimi è veramente poca cosa. Questa è la prima volta che ho il piacere di essere parte attiva di queste manifestazioni e non posso che esserne dietro. Poi in particolare questo colluvio mi sembra particolarmente interessante perché unisce quello che è la tradizione tecnica del Mari Perman, oggi il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale che ho il privilegio di cominciare a dirigere, visto che sono arrivato da pochissimo, con quello che è il grande supporto che in qualche modo è l'anello di congiunzione tra quello che è la storia tecnica e la storia artistica. Quindi questo qui fa sì che la spezia, che è il contorno fondamentale per tutte queste imprese, in qualche modo riunisce tutti quanti questi aspetti ed è molto bello pensare alla parte tecnica e alla parte culturale che si sommano e credo che la nostra artista lo fa sotto tutti gli aspetti. Quindi direi che è benvenuta a bordo, la nostra capitrice di bordo, quindi questa volta abbiamo in qualche modo accresciuto ancora di più le competenze di un equipaggio che del mare sta facendo una ragione di vita come ovviamente per noi. Quindi grazie e grazie per la vostra presenza. La mostra Nautilus curata dal professor Francesco Gallo Matteo è ormai un'esposizione itinerante lungo le vie del mare, ha preso il via, è proprio dalla Sicilia, da Palazzo Belmonte riso, da Palermo, quindi poi ha avuto una tappa in estate a Marsale e ora proda al Museo Tecnico Navale della Spezia. Mostra, abbiamo citato l'attrice e la realizzatrice, l'artista Concetta del Pasquale che devo dire è un'artista di assoluto livello nazionale e internazionale, ha delle proprie opere presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private, ha partecipato alla 54esima Biennale di Venezia, a Padiglione Italia con Vittorio Sgarbi, a Expoarte, ha esposto a Firenze, a Palazzo Medici, e al Maschio in Gioia in Napoli, insomma ovunque, sostanzialmente ovunque, la ringraziamo per la propria partecipazione e quest'oggi si presenta a noi appunto con questa rassegna espositiva intitolata Nautilus che è sostanzialmente un percorso creativo, è costituito da tante tappe, da tanti approvi in cui l'elemento fisico, l'elemento esperienziale si va a fondare, elemento reale, per così dire, si va a fondare con l'elemento immaginifico, con l'elemento onirico, con l'elemento mitologico, come spiegherà poi diffusamente il professor Marinacci, che ringrazio per la presenza, che ha contribuito naturalmente alla gestione di questa importante rassegna esposizionale. Naturalmente prima di cedere la parola al professor Marinacci, poi al maestro concetto di Pasquale, desidero però, ecco, sottolineare che è veramente con vero piacere che ho avuto il privilegio di ospitare questa mostra e questo è proprio, tra l'altro, correlato ai fini istituzionali della Marina Militare, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro paese, che l'Italia è una nazione a prevalente vocazione marittima, quindi chi desidera guardare al futuro, chi desidera traguardare al futuro deve ineludibilmente pensare al mare, alle proprie potenzialità, non dimentichiamo che oltre l'80% dei pratici mercantili mondiali si sviluppa proprio per linee logistiche marittime. E non dobbiamo altresì dimenticare che sostanzialmente il nostro paese ha tre grandi talenti, le arti, le scienze e il mare. Quando ci siamo mossi su queste tre delettrici c'è stato il rinascimento, ci sono state le grandi scoperte scientifiche, ci sono state le repubbliche marinare, ecco, quindi la salvaguardia del mare, il rapporto con il mare è assolutamente fondamentale. Ma cosa rappresenta poi il mare per la conoscenza di questo anno? Il mare è una buona emozione, è un'emozione trasferita attraverso queste suggestive cromie, queste velature, questi approdi mentali che si identificano su carte nautiche, ma non solo, e che hanno, creano delle suggestioni in cui l'elemento, come dicevo prima, l'elemento reale e l'elemento emozionale si coniugano insieme. E potremmo quasi definirlo un operato, ecco, tra razionalità ed emozionalità, che del resto è correlato alla stessa natura antitetica della nostra cultura, sempre in bilico, fra il razionalismo e l'antirazionalismo, fra il modello e l'unicità, che produce effetti di conoscenza che spesso ribaltano la realtà in finzione e la finzione in realtà. Ecco, da questo punto di vista ci sono stati dei grandi rappresentanti dell'arte, Alfred Hamilton Bar, Junior per esempio, che aveva proprio coniugato e correlato e sviluppato la cultura e l'arte del Novecento secondo queste due direttrici, l'arte estratta geometrica e l'arte estratta geometrica, ragione ed emozione. E questo è l'arte del concetto del Pasquale che crea proprio una ponte, un invisibile ponte mentale fra queste due dimensioni. Due dimensioni che nel caso di noi marinai, di noi uomini abitanti del mare, ecco, questo viatico, questa correlazione è sviluppato attraverso la nave. La nave che non è soltanto strumento per produrre e portare benessere, ma è anche da sempre in poesia, metafora di vita, ma al contempo ricopre il prezioso ruolo di opera d'arte. Non dobbiamo infatti dimenticare che Vasili Candischi nel Trattato sull'Astatismo proprio asseriva come fra gli umani manufatti lo scafo della nave quanto più si appicina all'opera d'arte. Perché le navi, oltre che essere fatti di bagli, di maglieri, di paramezzali, di correnti, di anguille, quant'altro è fatto soprattutto della stessa sostanza dei propri equipaggi, volendo parafrasare William Shakespeare, la tempesta atto quarto. E l'equipaggio è una sorta di band of brothers, di banda di fratelli, volendo nuovamente dirla alla Nelson o per meglio dire ancora alla Shakespeare, visto che è una citazione del ricottano. Ecco, da questo punto di vista tutto questo si correla alla fine in un unico sistema. Due uomini di marina, siamo custodi, fedeli di questa grande tradizione, di questo grande patrimonio e il sostegno che il Paese quotidianamente ci riserva, ci conforta, ci fornisce quella spinta, alimenta il nostro entusiasmo, con la nostra motivazione, ieri, oggi e sempre. Grazie per la portesa attenzione. Io spero di non andare in ridondanza, perché già è stato espresso tutto quello che dovrebbe essere espresso. Vedo una bellissima conchiglia qua, il marmo e vedo che siamo nel luogo giusto per parlare di un po' di scritto. Perché il concetto è un'artista raffinata, e poi ci vedrete adesso, insomma, non serve qua sponsorizzare, diciamo, questo evento, serve semmai fissare qualche direzione per la lotta. Un signore, 50 anni fa, che si chiamava Manzoni, non lo conosce come artista, ragionava sul corpo umano e sulla metro, la misura del corpo umano, per cui a un certo punto c'erano questi metri consolidati, queste bobine, queste misure di volto, come dire, che facevano, ricostruivano, come dire, l'identità del corpo umano e della identità, spesso, della figura umana attraverso il suo passaggio temporale. Questa è una rotta che è stata definita più o meno mezzo secolo fa. 20 anni dopo, diciamo, una generazione dopo arriva un'altra artista che si chiama il Klein e ragiona sul blu, questo oltremare, diciamo, e il blue Klein crea questo colore, ragiona su questa indefinibile tessitura cromatica e lo fa con il corpo. Il corpo si accoggia su queste terre e si costruisce una dinamica particolare. Un'altra rotta, secondo me, da precisare, è invisibile, perché iniziamo nell'ideale di invisibile, per tornare su questo scenario, è Manz, perché il Nautilus è una di quelle conchiglie perfette che riproduce la sezione aurea. La sezione aurea è la curva, praticamente, che si va a creare seguendo la logica di Fibonacci, cioè la sezione di Fibonacci, ovvero Mario Mertz. Mario Mertz lo fa con la luce e con il neon e naturalmente concentra in modo assolutamente, secondo me, rigorosamente silenzioso dentro questo incano della conchiglia dove c'è un ego. Ecco, lei ci invita, secondo me, a riconoscere questo eco, a sentirlo e a tirare fuori questo peer rouge che poi va a costruire la nostra rotta in una dimensione, secondo me, molto chiara, perché ci sono delle mappe, mappe che sono dei registri mentali, come dire, di navigazione. Ciascuno di noi ha vissuto, secondo me, in quei luoghi, in qualche modo, o nella letteratura, o nel pensiero, o in un film, o leggendo e vedendo, insomma, in qualche immagine. Quelle rotte, secondo me, le ritroviamo, noi stessi ritroviamo il senso dell'uomo, della civiltà e del suo navigare. Questo, secondo me, è un po' quello che io mi sono ritrovato guardando questo navigare, insomma, di concetto. Quindi ringrazio naturalmente molti della solidarietà, dell'appartenenza a questa sfera che è l'immaginario e poi che è l'immaginario. Grazie di essere qua. A questo punto, indeludibilmente, la parola. Io sono molto, molto bella di essere qua e anche molto onorata, veramente, di essere in questo bellissimo museo, essere ospite vostro, essere ospite della Marina Militare, essere ospite di questo museo del direttore Alimini, che è stato veramente carissimo nell'accogliermi e nell'accogliere chi ha perorato questa mia casa. Per cui volevo veramente che venissero Simona e Roberta, perché sono state veramente fondamentali per vincolarvi in questo meraviglioso luogo e per portare questa richiesta al direttore Alimini. E quindi, proprio, vi ringrazio perché avete, avete, mi avete aiutato a essere qui presente sicuramente. E poi volevo ringraziare l'immaginario che, chiaramente, anche nella qualità del Mariperman, poi mi ha accolto in una, diciamo, in una manifestazione bellissima, un'espressione che mi appartiene, che è vicina al mio modo di sentire il mare, e il mio modo di viverlo, perché, chiaramente, attraverso la navigazione. E, chiaramente, io sono una vittrice, però, avendo scoperto, poi, quella che è la mia canzone per mare, è diventata anche la, una parte della mia navigazione nella vita, ecco, che mi ha accompagnato nel, nel, nel fare tutta. E ringrazio anche Marco, che, che, che Davilano è venuto a, a presentarmi, che ha scritto su di me, che, insomma, mi ha sentito in, in questo, in questo, in questo, in questo viaggio di Nautilus, che, appunto, ha, che giunge ora la sua terza tappa, eh, e, quindi, via, alla Spezia. Eh, io, oltre a ringraziarvi, non saprei, ecco, che cosa dire, anche perché, parlare delle mie cose, lo vedrete sopra, e vedrete, anzi, attraverso questo piccolo filmato, che mi riprende, mentre dipingo, di studio, vedrete anche, un po', come, eh, avviene questo incontro, eh, corpo a corpo, con la carta. Io lavoro, mai, da tantissimi anni, solo e studiamente sulla carta. Questa, è un, eh, è, è il luogo dove depopo la mia energia, eh, in questo incontro, diretto che faccio, senza strumentazione, quindi, lungo, parte il mio corpo, mi muovo sulla carta, e da questo vengono fuori, poi, poi, queste immagini, eh, mi apparono queste immagini, e non faccio altro, poi, con le mani, con le pezze, che far venire fuori quello che, man mano, mi appare. E, questo è, un po', il, eh, questo, questo corpo a corpo che nasce, un nascostamento nel mio studio, eh, su grandi carte, eh, un, eh, un, un pittore mi ha proposto di riprendermi un pochino, io ero molto di Tubant, eh, perché è una cosa mia intima, eh, però, mi ha convinto, e quindi vedrete un po' questi, questi flash, veloci del, 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 mia pubblica studio. E, hm, troverete anche gli acquarelli, che, invece, perché, mentre le, sulle grandi carte, mi muovo con questa cartamina, con la quale mi ungo, eh, e, che, poi, riposto a mano, muovendomi, e, 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 con, il, con il, con la pittura olio, invece, eh, eh, troverete anche gli acquarelli, che sono quelli che io porto in barca, e, quindi, porto con me, e, chiaramente, uso la strumentazione dell'acquarello, con pennello, so, è, è più tradizionale. Ecco, buona visione. A questo punto, eh, chiederei, eh, ai gentili ospiti di accompagnarci al piano, eh, superiore, e non navigando sul mare color del vino verso genti stranieri, come direbbe Omero, bensì per visionare la mostra dell'artista concetta del Pasquale. Grazie. 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 Grazie.